Serata di tango per il Terre d'Arezzo Music Festival, in scena alla residenza Il Verreno, ad Ambra il Quartetto Iperion Guardia Vieca, una formazione specializzata nella celebre danza argentina che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo. La nostra manifestazione è nata proprio con lo scopo di offrire bella musica di grande qualità anche in posti d'eccezione, posti da valorizzare del nostro territorio importanti sia dal punto di vista storico, artistico ma anche paesaggistico. Nel corso della serata il gruppo ha offerto così un percorso che ha illustrato la storia del tango, dagli albori ad Astor Piazzolla, il compositore argentino di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Noi ci dedichiamo a questo genere dal 1992 con una formazione più grande di questa che si esibisce stasera qui a Bucine. Abbiamo girato praticamente tutto il mondo, siamo stati in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Asia, però abbiamo pensato di fare una formazione più ridotta per situazioni come questa e anche per studiare il repertorio della Guardia Vieca, si dice, in Argentina, perché il tango delle origini dal 1890 fino al 1930 si chiamava tango della Guardia Vieca e veniva eseguito con questi strumenti che abbiamo stasera, il flauto, il violino, la chitarra.